Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Sonato ed eccoci su The Isletide Hotel. Non vedo l'ora di scoprire cosa può regalarci ancora questo titolo. Eravamo rimasti qui in questa nostra seconda run. Come avete visto dal primo episodio molto è stato tagliato, ma per certo è possibile constatare altre storie all'interno di run future. Probabilmente tutti quei casi strani che abbiamo visto all'interno della nostra prima run sono dovuti a un nostro non conoscimento totale della storia. Ripeto, sono felice della nostra prima conclusione, che come avete visto dal precedente episodio non è neanche tra le prime che sono state sbloccate come achievement. Di conseguenza non è una delle più facili da ottenere. Ma sono sicuro che esplorando ancora l'hotel, parlando con determinati personaggi, riuscendo ad entrare un po' di più nelle loro vite, come per esempio con la coppia che stava litigando per le scale nel precedente episodio o il giocatore d'azzardo, magari riusciremo a creare nuovi alleati. Non sbloccherò tutti i finali del titolo, almeno che lui non ha un finale ultimo che si sblocca al completamente di tutti i finali. Ma se così non fosse, è esattamente come le altre opere di Wales Interactive. Si tratta semplicemente di più run da giocare in mondo diverso e sparso. Vedremo semplicemente qualche interazione. Voglio lasciare anche a voi il piacere della scoperta di un titolo come questo, a seconda delle vostre decisioni. L'altra volta siamo andati nella 8, questa volta siamo entrati dal retro. Ricordo che la 5 fosse chiusa, proviamoci comunque. In realtà a questo punto mi basterebbe tornare indietro nel precedente episodio e vedere la mappa per scoprire dove andare. Ma no, mi siedo, mi siedo. L'ultima volta che ti abbiamo conosciuto non volevi farci entrare, non eri ancora pronta. Quindi non è un potere, semplicemente se ti sei abituato a tutto quello che vedi. No, siamo entrati qui tanto per. Entriamo nelle stanze altrui. Ed entriamo dal retro anche. Mh, quella centrale. Il nostro personaggio è molto metodico. In tal caso abbiamo fatto un'ottima scelta nella prima run. E aspetta davvero una risposta così immediata? Tralasciando che uno creda o no nel gioco delle carte e nella loro interpretazione. Davvero non si può lasciare un secondo all'altra persona per pensare a come dire e cosa dire o comunque per ragionare su sistemi che solo li conosce. Un attimo. Perché è infantile? Esattamente come la volta precedente. Taglio. Naturalmente questo gameplay sarà molto più serrato, ma come vedete tralasciando le parole spesso le azioni sono le medesime. E' molto carino e si sposa tantissimo con quello che indossi. Ma mai questa differenza rispetto alla nostra run precedente? Semplicemente cambia la persona contro cui possiamo scontrarci? Oh, ancora tu? Ecco a questo punto, anche non conoscendo naturalmente cosa avviene in questo hotel, saremo venuti a sapere di un particolare molto importante, una ragazza più o meno giovane della nostra età, di quella del protagonista intendo, che ci dice di essere qui dal 69. Lo hanno ugualmente preso. Quindi di fatto lo abbiamo aiutato in precedenza. Questo è stato deciso. un abito è davvero spaventoso come cosa soprattutto con quanta normalità i presenti agiscono in questo sembra una ragazza così gentile ma è fantastico le sue prime parole in tutta l'opera ma non gridare il mio nome sto sto vedendo si arrende che scena pietosa davvero triste a dir poco in confronto a opere come i suoi black clouds dove abbiamo visto azione sangue inseguimenti e quant'altro cosa stiamo vedendo Kurt Russell in big trouble little china the bit in the wheelchair when he falls hey hey you awake you hear me where is she Elena where is she answer me answer me where's Elena Malone ma si diamo le spalle comportati dal genitore quindi questo è comportarsi dal genitore responsabile ma sembra una persona così gioviale io gli farei il solletico non lo colpirò anche perché a mio modo di vedere è inutile avrebbe già parlato qualcosa qualsiasi cosa l'avremmo sentita all'interno del titolo istigatrice istigatrice che mi ha capito nonostante che non so nonostante che si mi ha capito nonostante nonostante vedi vedi al Sì, io non sto parlando. Oh! Hey! Get up! What are you doing? I'll do whatever it takes, I won't stop looking. What are you talking about? You're leaving her all over again, your own daughter. You're her dad! But we were told he... Told what? Who told you? We didn't know she had any family. I would have said something if I had known them. And in the moment in which he said, comportati da padre, I didn't understand. Ok, I knew it. I knew it. He's a very sweet person, in reality, in everything that happened. And remember that, as we see here, not always the people are like they appear. Because there is this exchange of body, of consciousness, of costume. So... So... We're too late. So... So... Where? You don't understand it. She's downstairs with them. We can't get to her now. There is a way to go. And we're going to leave the house with the people. Yes. She said it even sounded like you'd give a shit. The first time that you sounded like your father... Why are you even here? She's not even here. If she was my daughter. Not mine. What? I don't know. non sappiamo ancora perché però questo non è un motivo per non accompagnarla nella crescita in quanto figlia comunque desiderato non non si è minimamente scusata di tutto quello che continua a dirci in continuazione da inizio titolo anche lì è spaventata per le sorti di Eleanor sta solo facendo il suo meglio in un motocoffo come ci hanno detto anche all'entrata dell'hotel avevamo entrambi la stessa postura forse non era giusto diglielo o comunque avrà avuto le sue ragioni non era la cosa giusta per quanto magari si è la scelta più sensata c'è un qualcosa qui dietro allo specchio avete visto? qualcuno è uscito da questa porta voi lo starete vedendo in editing ma chi può essere l'altro? e questa cosa era voluta o è successo semplicemente? sì questo signor H di cui non abbiamo informazioni lo farò tranquilla ha rubato di tutto le carte vediamo i tarocchi visto che abbiamo avuto un'interazione dovrebbero dirmi qualcosa chi sa chi sono queste persone? chi erano? cosa sono ora? perché non mostrarmela? la patente del signor H senza foto però ma non è che hanno usato un vero documento e per questo lo hanno oscurato? spero di no vi è qualcosa nella vasca e noi sappiamo che è un elemento fondamentale per quello che avviene qui dentro ma non sappiamo ancora come tutto questo per quanto interessante come ho detto nel precedente episodio è un qualcosa di già visto davvero l'esempio più ecclatante come ho detto anche è quello di Get Out il film però vi è davvero tantissimo in merito spero che ci sia in qualche modo quella parte in più da scoprire quella parte interessante ma dubito come i piccoli incontri cambiano e ora finalmente possiamo capire quello che ci hanno detto nel primo episodio come mai quella ragazza ci parlava come se ci conoscesse? stessa scena e in questo caso la nostra interazione non ha fatto invece cambiare corpo a lui a differenza della signora che abbiamo imparato a conoscere nel primo episodio di palloncini il rosso che ritorna bellissima questa cosa lì invece chi è? è un bel messaggio quello che il nostro protagonista dà e non trattare come un oggetto il corpo che sia in questo caso un costume o no però può agire come sempre diversamente è troppo esposto non ho immaginato se ne stanno accorgendo ed è un qualcosa di molto bello per noi che lo abbiamo capito solo tramite l'archivio è entusiasmante questa run come so che sei tu? beh da come ci tratta? e se invece non fossi soddisfatto come funziona? si può tornare in un precedente corpo? si può annullare questa transizione all'interno di tutto questo ok che comunque è normale vedere corpi nuovi ma non in questo modo immaginate che confusione nel riferirsi semplicemente a se stessi nell'esprimere se ci sarebbe una confusione enorme in quello che si è e nella percezione che si ha di se stessi in cosa ci piace naturalmente i tempi entranno avanti noi saremo giovani vecchi a seconda di quello che succede e dovremmo adattarci a tutto restando con una mente flessibile un qualcosa di difficilissimo certo sarebbe plausibile che magari nel cambiare corpo organismo comunque si erediti parte della elasticità del cervello ma è un'ipotesi e comunque non cambieremmo radicalmente per certo ergo e noi non hanno fatto una cosa così bella allora potrebbe essere il ragazzo George se ricordo bene che abbiamo conosciuto nel precedente episodio è un qualcosa di leggermente brutto malato e quant'altro per farla breve semplicemente lei era innamorata di un uomo uomo che l'ha tradita e lei ogni anno cambia costume come lo definisce e nel momento in cui stanno per consumare un rapporto lo lascia ridendo in quel momento è un qualcosa di ok magari meritato dall'uomo ma il reiterare del tutto è qualcosa di terribile anche tornare indietro nel precedente episodio e prendere una scelta diversa in questo momento nel non appoggiare il verbo che avevamo ormai conosciuto cambierebbe radicalmente il tutto il verbo che avevamo ormai conosciuto Lei fa. Helpless. Qualcuno qui dà un motivo per la quale questa ragazza non deve essere donato a Dr. Aniston? Non è troppo tardi. Per l'invito del corso. Tutti tutti bisogna andare fuori a volte. Credo me. Parlare ora. I'll tell her you came. I'll go. Rebecca. Go. I'm Elena's father. Who are you? I'm Elena's father. No, you're not. We know you're not. I am who I say I am. Avremmo potuto vantare di essere comunque suo padre avendola cresciuta ma non abbiamo fatto neanche quello e questo ci mette davvero in una posizione scomoda. Uh, il rosso ha vinto. Ho fatto un punto. È vero. Dr. Aniston è il nostro è il nostro fundatore e il siengortatore del corso. Ma leουmmeni sono sui tutti e sdjjjjJK E' un finale strano Acerpo Soprattutto per quello che conosciamo di tutto questo Ma in qualche modo romantico Più sentimentale Meno logico rispetto all'altro Non so se prenderlo come un onore Una punizione O un evento più che eccezionale Anche per tenerli sotto controllo La madre Siamo riusciti nel primo episodio A scappare da questa situazione Anche contro la stessa genitrice E' davvero nato tutto da questo Tecnicamente no Ecco perché Nel precedente episodio Parlando con quel verbo Ci hanno spiegato Dell'importanza di questo hotel Che non è solo nel nome del titolo Ma anche dell'importanza Di suo marito Avevano detto Probabilmente non eravamo pronti Che ci sono Che non è solo Dimenticandoci per un attimo dello scambio di coscienze, anime, corpi e quant'altro presente all'interno di questo titolo, c'è da dire che questa attrice per il ruolo che sta interpretando è davvero talentuosa, molto brava, certo a mio modo di vedere ha un modo di eccitare molto più teatrale, però bellissimo rispetto soprattutto a tanti altri che abbiamo visto all'interno di questo titolo e non solo in queste produzioni. E questo dovrebbe cambiare tutto? Io spero che il gioco non ci ponga neanche di fronte a una scelta, davvero non può plagiarci in questo modo, anche perché la conoscenza nel nostro caso a cosa servirebbe? Per noi che ci siamo dimostrate persone quasi asettiche dall'inizio del titolo, cosa può importarci della conoscenza altrui rispetto a nostra figlia, biologica o meno? Ricordiamoci che siamo qui per un motivo, ed è prendere e salvare Eleanor. Non possiamo cambiare idea così facilmente, e questo lo dico non solo per una mia decisione all'interno della run, ma proprio per come abbiamo organizzato il protagonista, per le scelte che abbiamo preso all'interno di questa run, e non solo. Davvero è stupido anche solo pensarci, se non per un livello di conoscenza dell'opera nel vedere i finali. Ha detto Tully, perché nell'effettivo sì, obbligano le persone. Perché non siamo un verbo, vero? Ma di chi sono? Mi hanno inserito all'interno di una stanza con un'orribile carta da parati. Sarà impossì... Una sfida impossibile. Un labirinto? Nell'hotel stesso? Come funziona? È questa, la famosa camera 14. È casuale. Forse nelle diverse stanze vi è un qualcosa. Ecco appunto. Sei un aiuto, vero? Mancano le lancette. Certo che esaminano l'orologio. Ma poi non mi basterebbe uscire da dove mi hanno portato. Strano, però viene un qualcosa all'interno della stanza, come vedete. Qui, in alto a destra di questa porta, una luce fulminata. Che sia questa la strada da perseguire? Che sia questa la strada da perseguire? Deve esserci un qualcosa da capire. Ora non possiamo avanzare. Sud. La nostra ultima scelta, altrimenti dovrò ripetere tutto il percorso. Colore diverso e... Che cos'è? Qualsiasi oggetto è prezioso. O la lancetta e l'orologio. C'è da dire che adoro come hanno reso il tutto. Hanno sfruttato probabilmente un'unica stanza in un modo fantastico per esprimere il senso di disorientamento. Perché il passare da una stanza all'altra è cambiare un qualcosa di stupido come semplicemente svitare una lampadina per far sembrare il tutto più strano, per far prendere alla stanza un altro aspetto. E' qualcosa di carino quanto poi si vede invece a terra gli stessi segni sulla moquette, come vedete. Però è una piccola svista. Ci sta. Diciamo che sotto questo punto di vista ammiro quello che si è cercato di costruire con così poco. Addirittura un'intera opera. E' un qualcosa di cattivo questo, però. Soprattutto in un momento come questo. Ma è un qualcosa che probabilmente ci dà la forza di andare avanti. Con entrambe le lancette. Avete visto? Nel riflesso il cameraman. Ci siamo riusciti. Non è stato difficile, però ci sono avuti per certo almeno una decina di minuti. Immaginate i cattivi qui fuori ad aspettarci. Ad aspettare una nostra fine che magari non sarebbe mai arrivata. Sì. Confermo quanto detto prima. Molto più romantico. Come mi trovavi? Non importa ora. Per via di un motivetto che riesce a partire ogni volta che mi avvicino a te, a quanto pare. Una tua colonna sonora. Ellen. Non sei mio. Perché ora, però? E non sarebbe stato meglio invertire queste due frasi? Prima dobbiamo andarcene e successivamente, una volta fuori al sicuro, spiegarle il tutto. Anche perché ci vuole tempo per capire e metabolizzare tutto questo. Josh. Sei un pessimo padre. Davvero? Finisce così? Caspita che cattiveria. Con un qualcosa di non chiarito. Allora. Proviamo a parlare nuovamente con Eleanor. Ci provo. Magari riesco ad arrivare in un finale carino. Tanto ho la possibilità di saltare gran parte dei dialoghi ormai. Ci vediamo con questo finale e successivamente non continuerò il titolo. Ci tengo a lasciare un po' di mistero in esso. Così, magari, qualcuno di voi, come vi ho già detto, interessato da tutto quello che viene raccontato, decide di provarlo. È uno di quei titoli, esattamente come vi ho detto anche per altri giochi del genere, FMV, che sono poco giocosi, ma che racchiudono spesso una storia interessante che spinge le persone a viverli. È un tipo di gioco che sinceramente non mi dispiace. Per quanto, ripeto, la componente reale di gameplay, sia poca o nulla, e poco si può fare, purtroppo, anche con la nostra percezione. Per quanto noi giocatori possiamo aver capito qualcosa all'interno dell'opera, come più volte è successo di alcuni personaggi, il nostro protagonista, invece, è all'oscuro del nostro pensiero, ma conosce solo quanto ha approfondito all'interno di questa run. Ma se non altro, questo ci fornisce una lettura diversa. Delle varie run, dei vari personaggi, dei vari filmati, dei vari dialoghi. E questa cosa l'apprezzo. Faccio qualche prova e ci vediamo con l'ultimo finale che sblocco. Positivo o negativo che sia. Speravo in un finale un po' più avanzato, invece sono già nei guai e ho appena iniziato questa run. Non mi sembra il tutto molto stretto, come potete vedere in basso a sinistra. Ma ok, scappiamo. Possiamo davvero lasciare un messaggio? La quantità di personaggi all'interno di quest'opera è sbalorditiva. E poi, invece, dietro il notaio non si nascondeva nessuno. Possiamo offendere un qualcuno qui. Abbiamo appena distrutto il cuore di Alastor. Questo però si rifà tantissimo con quello che stavo dicendo in precedenza. Non cambia l'elasticità mentale. È diverso rimanere al passo con tutto. Per quanto la coscienza venga scambiata all'interno del nuovo corpo, si rimane vecchi ed è un problema. Un gigantesco problema salvo e non si rimanga in un ambiente specifico, come questo hotel, dove il tutto resta immutato nel tempo. Ma per quanto? Sto continuando la run e guardate cosa sta dicendo. Voleva che fossi forte e taciturno. Cosa vi avevo detto? E ora canta Yaya Ding Dong. Concernamente sì, mi dispiace davvero tanto per lui. Dicami dove è la mia figlia, quindi non ho bisogno di ucciderti di nuovo. Poverino, e questo è quanto vi stavo dicendo. I nostri personaggi non hanno coscienza del resto che abbiamo scoperto. Ahimè, altrimenti saremmo andati direttamente qui. Ed esattamente come nella precedente run, sono arrivato sin qui. Ma consegnerò Eleanor, nostra figlia. Tradiremo qualsiasi tipo di fiducia che ci è stata accordata in questo titolo e anche in quanto giocatore per quanto mi riguarda, ma scopriremo cosa succede. Chissà, magari potremmo addirittura scoprire i segreti di questo hotel. Mi sento in supercolpa però. Troppe informazioni? Nulla ci verrà detto, vero? Lo sospettavo. Ah, che peccato. Sarebbe stato bellissimo scoprire qualcos'altro. Vediamo a livello dei documenti. Direi che abbiamo fatto comunque un ottimo lavoro. Abbiamo quasi finito. Per certo rimane al massimo un altro finale. Perché qui abbiamo vissuto davvero tanto. Guardate quanti incontri! E tutto questo si sviluppa sicuramente nelle varie camere. Quanto? Perfetto. Lascio a voi esplorare questo titolo. O se vi piace, perché no? Magari lo porterò completamente. Ma a mio modo di vedere abbiamo già scoperto gran parte di esso. E per certo abbiamo capito i segreti principali. E come mai vengono attuati. E addirittura come succedono all'interno dell'opera e di questo strano hotel. Ora, i personaggi sono volutamente esagerati. A mio modo di vedere, esattamente come vi ho già detto, sono attori per lo più teatrali. Ma lo dico davvero da inesperto. In ogni caso, l'opera in sé è carina. È ben costruita anche. Vi è quella parte di enigma che non mette paura, però mette curiosità. Il rileggere tutto ogni volta mi appassiona. Grazie mille anche per recuperare insieme a me opere come queste. Opere non certo eccelse, ma che comunque ci regalano una storia. Il più delle volte anche carina e appassionante. Alla prossima. Ehi. Sono indeciso. Vedrò prima le vostre reazioni e successivamente però voglio continuare con i finali.